controllo qualità lavoro non stop anche la mosca ha diritto al lavoro, allo stipendio, alla tredicesima e alla quattordicesima perché lavorano stop, questo è controllo qualità, se è buono è buono, se no non è buono, punto, non si ferma, non si ferma, vedi c'è qualcuno che vuole prenderle il posto, ma lei no, lei sta qui, sta qui, e sa anche di essere ripresa, di guardare sulla telecamera, a posto, questo è lo zello necessario per svolgere il proprio compito, voler controllare la bontà di un'albicocca, vedi come si strofina le mani, dice sì, è buono questa, questa dice io voglio andare pure io, voglio andare pure io, però non ci va, non ci va, capi? Questa sì, quella non ci va, questa fa il controllo qualità, fidati di questa mosca!